guarda la il rocket con cui noi vogliamo consegnando il pane perché noi possiamo pazzi, pazzi, perché noi possiamo suei suei, ma io ho un gioco dei tuoi guarda la il rocket con cui noi vogliamo consegnando il pane perché noi possiamo colpo poco e pugni dure, più malati uomini piacchissiamo disatto per scherzarti consegnando il pane con il rocket man mi chiamo suei suei e lui va dius